Emergenza sanitaria a Ronchi dei legionari per un caso accertato di febbre d'engue. Una donna di 36 anni avrebbe contratto la malattia nel corso di un recente viaggio in Thailandia, ma la circostanza non è confermata ed è ora ricoverata a Trieste. Non è in pericolo di vita. La notizia è stata diffusa in primis dal comune Isontino, che ha disposto a livello precauzionale una serie di disinfestazioni nel raggio di 200 metri dalla via dove abita la giovane, proprio nell'area centrale del paese. Abbiamo sentito al telefono il sindaco Livio Vecchiet. Uno di Ronchi è intervenuto su indicazione dell'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria è intervenuta con la sua ditta, diciamo, nella disinfestazione, ma è supportata dal personale della polizia locale, supportata da due nostri dipendenti dell'ufficio ambiente, che già ieri pomeriggio sono passati all'interno della zona a disinfettare, diciamo, e hanno affisso l'ordinanza che avevo emesso ieri pomeriggio, abitazione per abitazione, e per cui ieri sera è stato fatto il trattamento, ieri sera, l'interda serata. Stamattina sempre i vigili, insieme ai nostri dipendenti dell'ufficio ambiente, sono andati assieme alla ditta per casa per gli ultimi controlli e gli ultimi trattamenti. Dall'amministrazione si informa che non c'è comunque alcun allarme, soltanto i disagi che hanno dovuto sopportare tra ieri e oggi i circa 2000 cittadini coinvolti nell'operazione. Dal punto dove è stata colpita, dove risiedeva la persona, di fare un cerchio con un raggio di 200 metri dal punto, e lì si interviene dentro quella zona. Chiaramente con l'ordinanza è obbligatorio fare queste cose qua. Ci sono dei piccoli disagi, hanno dovuto tenere chiuso le imposte, tenere in casa gli animali d'affezione, coprire eventualmente qualche piccolo orto.